La regione Calabria questa sera a Mileto rappresentata dall'assessore Vary, una regione che è guidata dal Presidente Occhiuto, sempre vicina alle realtà d'eccellenza del territorio vipponese. Sì, lo è, lasciatevi dire innanzitutto che questa sera a Mileto è una bellissima festa, ci sono tantissimi carri, tante maschere, uno spettacolo meraviglioso, è bello vedere in giro per la città migliaia di persone. Questo è frutto anche della capacità progettuale di questa amministrazione comunale, della regione Calabria che naturalmente ha valutato e premiato i progetti migliori. Questo territorio deve crescere, deve destagionalizzare le presenze turistiche, non possiamo vivere soltanto due o tre mesi all'anno, dobbiamo fare in modo che durante tutte le stagioni ci sia tanta gente in ragione di tutti gli eventi che riusciamo ad organizzare. Quindi complimenti all'amministrazione comunale di Mileto, è una festa meravigliosa, bellissima. Il carnevale peraltro miletese è ormai una tradizione che speriamo riesca ad affermarsi sempre di più nel corso degli anni.